Buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, siete sul canale 17 e come tutte le mattine alle 7 in diretta abbiamo la rassegna stampa, o meglio il commento alla stampa del giorno, abbiamo selezionato questa mattina per voi alcune pagine dei giornali, Carlino e Corriere Adriatico e tra poco le vedremo insieme, le commenteremo insieme, prima andiamo però a vedere il calendario, il santo del giorno e poi il tempo, perché cambia il tempo, oggi è San Germano, il sole è sorto alle 5.32, tramonterà le 20.41. In realtà non cambia oggi, il sito della protezione civile delle Marche indica sole su tutta la costa per la giornata di oggi, un po' nuvoloso domani, sabato 29, poi il tempo peggiora, vedete, nella giornata di domenica con piogge sparsa, prevalentemente caratteri di rovescio temporale più abbondanti sul settore centro-meridionale della regione, possibili condizioni di tempo instabile anche nelle giornate iniziali della prossima settimana, quindi lunedì e martedì. Spiagge libere, non selvagge, il titolo d'apertura del Corriere Adriatico di Pesero, per prenotare un lettino ci sarà anche un'applicazione, quelle che si usano nel telefonino, Sottomonte, Baie e Fiorenzuola, chi sono i gestori? Turisti, senza un posto negli stabilimenti balneari, il Comune ha incontrato i concessionari, mentre a centropagina il ricordo marchigiano di Carla Fracci, morta ieri, qui rischiò di perdere i gioielli, Carla Fracci alle Muse il 17 aprile del 2010 in un'occasione di un incontro della Fidappa sulla danza, la mia carriera, ha detto, è stata frutto di disciplina, costanza e umiltà, disse in quell'occasione. Poi si parla, qui di spalla, vedete, di un'inchiesta nelle pagine interne del Corriere Adriatico, l'inchiesta qual è? È praticamente sul commissariamento di gran parte delle cose che riguardano la nostra regione, una regione rassegnata il titolo, comandano i commissari, le marche dei commissari praticamente, una lista lunga, i partiti per esempio, Lega, Fratelli d'Italia, Udc, tutti questi partiti sono in mano ai commissari, poi c'è l'extra politica, Confindustria Macerata e Confindustria Fermo Ascoli commissariate, grandi opere, Fano Grosseto, Salaria Eorte, Falconara commissariate, la lista insomma si allunga, per esempio anche nel settore della ricostruzione post-sisma, eccetera, eccetera. Poi a Ponente, a Pesero, avanti con l'isola pedonale, si parte l'11 di giugno, a Fano, badante, prendeva il reddito di cittadinanza senza averne diritto e Urbino, il CUP, il centro unico di prenotazione, resta chiuso nel pomeriggio e dunque non si può pagare. Poi il nuovo prefetto di Pesero Urbino, Ricciardi, che dice di essere già innamorato della città di Pesero, sulla secessione poi di Montecopiolo e Sassofeltrio, dice peccato io sarei fiero di essere marchigiano, è impressionato da questa bella città, dice, sono impressionato da questa la città e dalla vivacità dei pesaresi. Piazza del Popolo è una bomboniera, i comuni che vanno in Romagna non sono felici, io sarei fiero di essere marchigiano, dice il neoprefetto Tommaso Ricciardi, ieri mattina si è concesso una passeggiata nel centro storico di Pesero. Poi come vedremo c'è anche però chi all'interno di Sassofeltrio, una frazione di Sassofeltrio, quindi non vuole andare in Romagna e quindi adesso sta facendo le carte per poter tornare nelle Marche e magari aggregarsi ad un comune lì vicino. I quarantenni snobbano un vaccino, in Houston abbiamo un problema, questo è un problema che attanaglia l'assessore regionale alla Sanità Saltamartini e la dirigenza della Sanità Marchigiana, perché i quarantenni non vogliono vaccinarsi, chi ha tra i 40 e i 49 anni ha deciso che il vaccino non lo farà o perlomeno ha deciso di attendere. Infatti, e vedremo tra poco nei numeri, sono abbastanza preoccupanti per loro ovviamente, non per i quarantenni, per chi deve garantire l'immunità di Greggio e l'immunità di tutta la regione. I quarantenni snobbano il vaccino, solo uno su quattro si è prenotato, immunità di Greggio però promessa entro giugno nelle Marche, mentre la foto a centropagina nel Carlino di Pesaro è per lo smontaggio del tendone della struttura davanti al pronto soccorso del San Salvatore di Pesaro. Una tenda che era lì dal 13 di marzo 2020, quando è ricominciata la seconda ondata e quindi tutto quello che è successo. Il virus leva le tende, questo è il titolo. Poi la protezione civile infesta al Codma e a Fano slittano centinaia di dosi. Denunciata dalla Guardia di Finanza, una badante finisce nei guai per il reddito di cittadinanza, che evidentemente non le aspettava. E poi a Pesaro di nuovo scatta la World Cup, la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. L'astronave si riaccende, insomma la Coppa del Mondo è una cosa non da poco. Di tutto lungo il fiume Genica, il torrente, anzi c'è anche un canile, i carabinieri forestali scovano abusi e rifiuti. Poi lo sport da Sacchetti a Petrovic, le mosse della VL, la dirigenza ha parlato con entrambi presentando budget e programmi. Allora, frenare non basta le marche in bianco dal 21 di giugno. Dunque il trend è ancora questo, cioè le marche continuano ad andare piano. La curva dei contagi, per quanto in frenata prolungata, è troppo alta di 5 punti. Dobbiamo scendere a 50, siamo a 55, casi ogni 100 mila abitanti sono ancora troppi e dunque ci attendono tre settimane ancora in zona gialla. Intanto gli ospedali però si svuotano, le terapie intensive sono al 16% e dunque le marche non hanno ottenuto ancora questo primo tagliando, viaggiando a un'incidenza di poco superiore a 55. Rispetto al report precedente c'è stato un calo di casi del 26%. Ieri un'altra vittima, il totale dei decessi sale così a quota 3.012 in tutta la regione Marche. La circolazione dunque virale continua ad essere molto differente nelle province marchigiane con picchi di incidenza a Pesaro e Ascoli che continuano un po' a rallentare. Ci sono queste due province che continuano a rallentare. Mentre rallentare la corsa verso la zona bianca, ma insomma poi leggendo quelle che sono le regole della zona bianca non è che tra zona gialla e zona bianca non è che cambi tantissimo. Sì è vero, possono, va via il coprifuoco e questo è importante, si possono anticipare le riaperture di attività per esempio al chiuso come le piscine, centri benessere termali. Resta però l'obbligo di indossare le mascherine, mantenere le distanze, evitando quindi gli assembramenti. Ora questo fatto che i quarantenni snobbano il vaccino, almeno per il momento, poi bisognerà vedere se questo Green Pass davvero, questo lascia passare, qualcuno l'ha chiamato, ma Green Pass è più moderno insomma, questo Green Pass renderà, complicherà le cose alle persone che vogliono andare in vacanza, c'è qualcuno che dice io ho bisogno, voglio andare in vacanza, se non sono vaccinato non posso andare, quindi preferisce fare il vaccino piuttosto che il tampone e che poi dura 48 ore eccetera eccetera. Quindi, quindi, sui vaccini si prenota uno su quattro soltanto, Saltavantini dice immunità di massa però in arrivo, l'assessore chiama raccolta le categorie che finora va più al rallentatore, bene che dal 10 giugno si apra tutte le fasce di età e poi il nodo della somministrazione del personale alberghiero, Saltavantini manda a dire state tranquilli, non saremo certamente da meno rispetto all'Emilia Romagna. Qui risponde ad una polemica ieri fatta, avanzata dal sindaco di Gabice. Ma Damiani sul Carlino di questa mattina intanto informa che anche Saltavantini ha fatto il vaccino qualche giorno fa, è reduce infatti dalla vaccinazione nel senso che l'ha ricevuta proprio lui qualche giorno fa e non è stata una passeggiata, perché? Perché l'assessore Saltavantini è acciaccato ma vigile. Lui dice, Saltavantini, ho appena fatto il vaccino AstraZeneca, ho avuto fino a 39 di febbre e malgrado ci siano 25 gradi ho il giubbotto invernale perché sento i brividi. Chiusa la parentesi personale. La preoccupazione poi passa verso appunto le fasce dei quarantenni. Le marche hanno un problema, dice, i quarantenni non corrono ad avvaccinarsi, sono pochi, troppo pochi, appena 40 mila dopo 10 giorni su una platea di 200 mila che potrebbero appunto vaccinarsi, che hanno aventi diritto. Mi chiedo dove sono finiti tutti quanti? Dove siano finiti? Siamo contentissimi di abbassare già dal 10 giugno la sticella dell'età iniziando a vaccinare tutti senza limiti. Poi il Carlino racconta di uno strano infortunio che è avvenuto ieri. Una persona, una persona si era andata a vaccinare al lab di Muraglia, a Pesaro, però poi a un certo punto, al momento di tornare all'auto, dopo il quarto d'ora di attesa, quello che è canonico, quest'uomo di mezza età a un certo punto ha camminato, stava tornando in macchina, però dopo qualche metro è andato a sbattere a piedi contro un albero. È stato ovviamente soccorso, è apparso un po' frastornato e poi l'hanno portato chiaramente pronto soccorso per essere sottoposto a dei controlli e capire se il nesso con la vaccinazione c'è oppure no. L'altra notizia invece sul Corriere Adriatico, sempre sulla questione della pandemia del virus, da metà giugno addio ai palasport, tocca a farmacie e medici di base, il vuoto in atteso degli over 40 e 50, perché io ho detto, abbiamo detto che principalmente la fascia 40-49 è quella che sta snobbando il virus, però anche quelli da 50-59, sono più o meno allo stesso livello, cioè chi ha tra i 50 e 59 anni in questo momento non ha nessuna intenzione di fare il vaccino, sono pochissimi quelli che si sono prenotati e che lo faranno adesso a partire dal prossimo mese di giugno. Molti stanno aspettando, dico magari finisce tutto, non si sa mai, qualcosa cambia, sparisce all'improvviso, oppure mi fido dei miei anticorpi e non di quello che mi iniettano dentro, che non si sa che cosa c'è. Insomma, è una bella fascia, sono numeri importanti e bisognerà vedere insomma come reagirà nelle prossime settimane, poi ripeto c'è sempre la questione del turismo. Vediamo, intanto sui Novax, quelli che non vogliono il vaccino ma che lavorano però in ospedale, sempre dalla regione si viene a sapere che sono pochi, sono rimasti pochi, soprattutto sono al nord quindi qui nella provincia di Peso Urbino. Medici, infermieri, si stringe il cerchio, il numero preciso di quanti siano gli operatori sanitari ad aver rifiutato il vaccino è riservato, quindi non si sa per una questione di privacy, ma Saltamartini ha fatto sapere che è più elevato nel nord della regione mentre siamo su numeri risicati al centro e al sud. Mentre appunto la dirigente del Servizio Salute, Lucia Di Furia, ha ricordato l'imminente arrivo del Green Pass che consentirà ai vaccinati oppure guariti o con un tampone negativo di potersi muovere per ragioni turistiche anche nelle regioni in fascia rossa. Allora, anche su questo io credo che, insomma, vorrei vedere chi è quella persona incosciente a decidere di andare in vacanza in una zona in fascia rossa. Non me la vedo, ma comunque poi, sai, stranezze se ne leggono e se ne vedono tante, per cui può darsi anche che qualcuno abbia voglia di andare in India, per esempio, a farsi una bella vacanza in India, in zona rossa e rischiare di fare questa vacanza col brivido. Intanto, allora, su a pagina 3 del resto del Carlino vi segnalo questa notizia. Mascherina giù solo se si mangia. La grottesca cena servita dal CTS. Il CTS, sappiamo tutti, è il Comitato Tecnico Scientifico che per i ristoranti hai chiuso, raccomanda di indossare la mascherina anche quando si è a tavola. Ora, chi segue la rassegna stampa e quindi ha avuto la pazienza di ascoltarmi in tutti questi mesi terribili, io ho più volte detto che in realtà quando si è a tavola è necessario indossare la mascherina quando non si mangia. Ma l'ho detto quando era marzo, quando era, diciamo, il momento forse peggiore di questa seconda ondata pandemica. Ora, stiamo andando verso l'estate, stiamo andando verso la bella stagione, stiamo andando verso una diminuzione generale di tutti questi numeri. Ora, mi spiegate perché devono sempre arrivare con qualche mese di ritardo? Ma questo a partire dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che era perennemente in ritardo. Adesso il CTS che è perennemente in ritardo. Adesso mi spiegano, mi spieghino questi signori che cosa serve una cosa di questo genere. Questo fatto di dover mettere la mascherina quando si è a tavola andava bene a marzo, andava bene a febbraio, andava bene nel periodo ma adesso non serve a niente. Però, infatti, Matteo Bassetti, per esempio, che è il direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, dice, è francamente una proposta ridicola. A me dispiace dirlo, ma sono francamente imbarazzato da certe proposte. Non sono per niente d'accordo con un'ipotesi simile che non ha giustificazioni. Dal punto di vista scientifico, misure del genere non hanno nessun senso, prima di tutto perché all'interno dei ristoranti, vabbè, sono stati installati i sistemi di ricambio d'aria adeguati, eccetera, eccetera. E poi perché comunque, ripeto, si va verso la bella stagione. Vissani, per esempio, lo chef dice, basta, non se ne può più, il mio locale è certificato dalla NASA. Non sta scherzando, nel senso che anche lui ha creato nel suo ristorante una sorta di bolla e dice, ho creato delle bolle e se un cliente ha il Covid non lo dà agli altri se lo riporta tranquillamente a casa. Sulla pagina di Fano invece del Carlino, la notizia che la Guardia di Finanza ha scoperto una badante che percepiva indebitamente, quindi in modo scorretto, il reddito di cittadinanza scoperta dopo le indagini. Per dieci mesi, dieci mesi ha troffato l'Inps, percependo indebitamente il reddito di cittadinanza, per questo ora una sessantottenne rumena non solo dovrà risarcire l'ente di previdenza sociale per 5.000 euro, ma rischia anche dai sei mesi ai tre anni di carcere. E poi c'è il racconto di come sono andate le cose. Mentre la protezione civile di Fano è in festa e dunque slittano i vaccini, perché domani e domenica l'attività verrà sospesa, i cittadini sono stati avvisati con un sms, perché festeggia i suoi 35 anni di attività, la protezione civile di Fano. E per celebrarla in grande stile, insomma, ha organizzato nella sua sede, che è appunto al CODMA, ha organizzato questo evento. Chiaramente forse questo evento non era compatibile con la prosecuzione dei vaccini e quindi l'Asur ha deciso di bloccarli per due giorni, si fermeranno e quindi nelle giornate di sabato e domenica, 29 e 30 maggio, non si farà il vaccino. Sull'aeroporto di Fano, invece, il sindaco ha deciso di riconfermare l'attuale amministratore, ovvero Massimo Ruggeri. L'altra sera, nel corso del Consiglio di Amministrazione dell'aeroporto, è stato riconfermato la carica di amministratore unico dello scalo per un altro anno. Nel corso della serata, dove erano presenti, oltre al sindaco, anche i vari rappresentanti sia della Camera di Commercio che della provincia, che sono gli altri due azionisti, sono stati anche presentati i conti del 2020. Sulla questione, invece, dei parcheggi blu, vedete i parcheggi a pagamento che debuttano per la prima volta su Viale Adriatico, nella zona Mare di Fano, sono previsti adesso degli abbonamenti agevolati per gli albergatori, albergatori che avevano protestato per questi parcheggi blu contro l'amministrazione comunale, parlando, insomma, di disagi, soprattutto per la clientela. Poi, sulla pagina, invece, 20, sempre di Fano del Carlino, il Paese dei Balocchi, che è una delle manifestazioni più interessanti dell'estate fanese, trasloca nel centro storico di Fano. Il momento clou del programma 2021 sarà rappresentato dalla mostra fotografica dal titolo Che favola. E poi Fano città dei bambini, esempio ripreso in tutto il mondo. Anche quest'anno, ovviamente, tornando al discorso del Paese dei Balocchi, questa manifestazione per bambini, anche quest'anno le restrizioni imposte dalle normative anticontagio fanno saltare tutte le feste di quartiere. Poi, quando Carla Fracci fece tappa nella città di Fano, nell'aprile del 2008, fu ospite d'onore del Fano Yacht Festival e salì sul palcoscenico del Teatro della Fortuna. C'è un'inchiesta, un test che ha fatto il resto del Carlino, un test interessante, condotto da Giorgia Monticelli, la giornalista del Carlino, che è andata a caccia di lavoro. Allora, scrive appunto la Monticelli, ieri ho cercato lavoro in spiaggia, come una ragazza qualunque, che intende guadagnare qualcosa grazie alla stagione turistica. Barista, cameriera, bagnina, aiuto cuoca, l'importante era lavorare. Tutti a dire che non si trova più nulla, tenuto conto degli 11.000 iscritti alle liste di collegamento a Pesaro, ma io ho provato lo stesso. E allora, ascoltate bene, dalle 12.31 alle 13.37, dice la collega Giorgia Monticelli, sono partita per la zona mare di Pesaro, con poca fiducia, lo ammetto, dopo 15 minuti, ecco qua la sorpresa, avevo già ottenuto due proposte di assunzione, barista in due locali della spiaggia, poi una terza proposta era di fare la cameriera per un noto hotel pesarese e l'ultima mi avrebbe permesso di fare l'aiuto cuoca sempre per uno stabilimento balneare nei soli weekend. Ora, questo articolo mi è piaciuto, bella anche questa iniziativa del giornale. Quando poi la giornalista ha spiegato chi fosse, c'è stata la delusione anche di chi voleva assumerla, evidentemente, che non lo ha potuto fare perché il lavoro, grazie a Dio, ce l'ha. Quindi, ecco, questo per dirvi che, senza fare tanti commenti, perché questo si commenta da solo, questo articolo, non manca il lavoro, manca solo la voglia di lavorare. Tutto qua. Sosta accordo hotel, sosta accordo con gli hotel, siamo sempre a Pesaro, per abbonamenti agevolati, scusate, a Fano, sosta accordo con gli hotel per gli abbonamenti agevolati, tagliando per gli stalli blu da 40 euro per il 10% dei posti letto, le associazioni si dicono soddisfatte. Dunque c'è un'ulteriore concessione da parte del Comune di Fano, dopo quella fatta ai residenti e ai pescatori per usufruire di questi parcheggi a pagamento in zona mare, questa volta, ecco, vengono accontentati gli albergatori, coloro che hanno appunto la clientela, che con un tagliando da 40 euro, insomma, si può fare, si può parcheggiare, insomma. Dopo una trattativa, dice Luciano Cecchini, presidente degli alberghi consorziati, abbiamo trovato un punto d'incontro fra le richieste degli albergatori e le prerogative dell'amministrazione. Si tratta di un intervento che cerca di accontentare tutti i soggetti e quindi apprendiamo con piacere che il Comune ha deciso di intervenire siglando questo accordo. Praticamente la nuova concessione si aggiunge a quella già deliberata in favore dei residenti. Gli abbonamenti stagionali, che sono da intendersi senza riserva di un posto, vengono rilasciati 1 per nucleo familiare il costo di 30 euro, questo per le famiglie. Per gli albergatori invece sono di 40 euro. Praticamente un numero di permessi dal costo unitario di 40 euro ciascuno, proporzionale al 10% dei loro posti letto a disposizione. In base a quanti posti letto ha l'albergatore, vengono rilasciati questi permessi. Sottomonte invece si potrà parcheggiare a partire da domani e anche nei fine settimana. Si potrà parcheggiare l'auto soltanto sul lato del monte dell'Ardizio. Il limite scende ai 30 km orari. Si apre anche il parcheggio ex CPA, ma a pagamento. Ecco, quindi anche qui, siccome comincia l'estate, praticamente comincia, anche se poi questo fine settimana sarà un po' perturbato, però ecco, c'è questa possibilità di tornare a parcheggiare. Una strada, siamo sulla Statale 16, Trafano e Pesaro, Sottomonte, pericolosissima, ma comunque alternative al momento di parcheggio non ce ne sono. Lungomare senza traffico, l'isola partirà dall'11 di giugno. Questa è una notizia invece per i pesaresi. Il comune tira dritto. L'assessore Belloni dice dobbiamo fare delle scelte, ma abbiamo parlato con tutti quanti. e dunque sul lungomare arriverà l'isola pedonale, quindi niente automobili. Ora, Gianluca Murgio invece questa mattina sul Corriere Adriatico ci racconta di questa frazione che si chiama Valle Sant'Anastasio, che fa parte del neocomune romagnolo di Sassofeltrio, che insieme a Montecopiolo appunto ha deciso di andare con la Romagna, ma una di queste frazioni di Sassofeltro, Valle Sant'Anastasio, non vuole andare in Romagna. Non ci pensa nemmeno. E quindi che cosa ha proposto? Ha preso carta e penna e ha chiesto che questa frazione, in passato appartenuta a Montecrimano, tornasse appunto nelle Marche, aggregandosi a chi? A Montecrimano Terme. Quindi una controsecessione, possiamo chiamarla così, una controsecessione. È stato spedito al vaglio dell'Ufficio Legislativo della Regione un progetto di legge per il distacco della frazione di Valle Sant'Anastasio e conseguente incorporazione dunque nel comune marchigiano di Montecrimano Terme. E questa cosa potrebbe essere depositata già oggi e quindi andare al voto fin dal prossimo Consiglio regionale. L'appello è già pronto per tutti i consiglieri regionali. Ascoltiamo i cittadini, sosteniamo questa annessione a Montecrimano e quindi alle Marche. E questa è una cosa interessante, anche se parliamo di un comune, una frazione di più o meno 100 abitanti, non è che parliamo di chissà che cosa. Però qui questi 100 abitanti di questa frazione dicono noi ci sentiamo marchigiani, noi abbiamo tutti i servizi qua. Pensate, a distanza di pochissimo, cioè di pochi chilometri, come le cose cambiano. Quindi, però vedremo se diventerà un caso politico, come probabilmente accadrà. Condizionati dalla pandemia, la burocrazia ci ha pesantiti. Invece siamo sulla pagina della Valmetauro. È la relazione di fine mandato del sindaco Gabriele Bonci. la burocrazia ci ha pesantiti. Dice, tra le note positive, la comunicazione social e il rilancio turistico e culturale. Poi c'è questa anticipazione. Forse i forsempronesi saranno chiamati a votare per eleggere il nuovo sindaco intorno al 10 ottobre. Non si sa. La data ancora non è certa, non c'è. Il decreto ne prevede una compresa tra metà settembre e metà ottobre. Sivo Cifere il 10 ottobre, ha detto e ha risposto il sindaco Gabriele Bonci. Tutto rimandato all'autunno, ma i fuochi sono accesi. Da Urbino, invece, Fornace e Volponi. Il comune pensa di acquistarle. Il sindaco Gambini dice, appartiene ad una finanziaria a cui abbiamo spiegato le nostre intenzioni. Mentre sotto, AMI, l'azienda di trasporto pubblico provinciale, cambia il suo presidente. Luciano Balducci lascia il posto alla collega giornalista Lara Ottaviani. La giornalista indicata dal comune di Urbino in qualità di socio forte dedicherò, dice Ottaviani, dedicherò a questo ruolo il massimo del mio impegno. Il 2 giugno, siamo in chiusura, inciampa il 2 giugno, il ponte inciampa sul marmo, slitta la consegna del nuovo ponte, la giunta Olivetti intanto studia la doppia mobilità, pedonale nel pomeriggio e nelle sere estive. Le mura di Corinaldo, un tavolo con la Regione, il presidente ieri mattina della Regione Acquaroli ha fatto un sopralluogo per ispezionare appunto le mura crollate, questa cinta muraria crollata il 18 febbraio scorso. Noi chiudiamo qui la nostra rassegna, Occhio ai giornali che torna domani mattina appunto alle 7, vi ricordo stasera alle 20.30 il telegiornale Occhio alla Notizia e alle 18 invece continua questa maratona mondiale del rosario voluta da Papa Francesco per chiedere la fine della pandemia, un rosario che ha toccato le più importanti, i più importanti santuari mariani e non solo mariani, stasera il collegamento sarà da una città della Germania. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti.